Sì, qual'era? Te lo ricordi? Devo guardare. Guarda che l'ha scritto sulla chat. 79. Ma perché c'è altra gente con voi? Sì, c'è Ed, Bacca, Shadow. Ci sono tutti. Minchia che strippo sta, ste Bacche. Ma, tra l'altro è bellissimo quando c'è tutta la versione... ...surreale. Mi sono abbaccata. Bah, dopo proverò a uscire e vedere se riesco in qualche modo a prendere il mio personaggio. Perché io fuori lo vedevo il mio personaggio, però qua no. Sto provando a salire su... ...una palafitta, adesso riesco a salvarmi dai zombie. Merda. Ah! I zombie non vengono sulle scale, vero? No. Che dita? Ok. Forse. Sì, idiota. Però ti si sente malissimo, fa un sacco di rumori strani il tuo microfono. Ma che sono fai un sacco di rumori strani il tuo microfono. Ottieni! Grazie a tutti.